... ... ... ... ... ... Sono Dexter, un Pokédex programmato dal professor Occh per l'allenatore Ash Ketchum, allo scopo di fornirgli informazioni e consegni riguardanti i Pokémon e il loro addestramento. Usi il Pokédex per i Pokémon che non conosci? Si... Da oggi non più. Ash, ma vai a fanculo, sei antico. Io per i Pokémon che non conosco, uso Dario Moccia. Dario Moccia riconosce tutti i Pokémon e se sbaglia lo puoi picchiare. Pikachu, il Pokémon topo di tipo elettro, il Pokémon penso più famoso di tutti. Diciamo che il Pokémon è rappresentativo di tutto l'intero brand, perché? Perché è carino, coccoloso, spammato a roba e ultra semplice. Io personalmente non lo odio né lo amo, è un Pokémon che stimo molto. Perché comunque si ha fatto conoscere il Pokémon tra i miscridenti e i Pokéfanatici. E poi comunque sia Pikachu è fighissimo perché ha delle caratteristiche molto interessanti. Hai rotto i coglioni. Perché capiscono bene il linguaggio umano. Bravo Pikachu! Hai capito. Si procura il cibo da solo, se sporca pulisce lui. Per i primi 100 che lo acquisteranno, in regalo c'è una fava, che gli potete buppare. Puppatemi la fava! 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 Compra un Dario Moccia. È comodo da trasportare, perché cammina da solo. Ora vattene affanculo. E non si scarica. A te invece, scommetto che è scarico. Si. So io come caricarlo. Pikachu! 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 Avere delle passioni è importante, avere delle ossessioni non è salutare. Cercate di non superare il limite. Ora andate e diffondete il mio verbo. 餅. Kun. Piccolate lo 2 calmate. Devono andare a fare, asiccate día,乱le他. Non so e ενansia… Con western.